Benvenuti in questo nuovo video della Big Vanilla, quest'oggi si continua a migliorare la casa, a migliorare le zone attorno alla casa, insomma a costruire varie cose e abbiamo un sacco di lavori da fare oggi Fere, sei pronta? Prontissima! Prontissima, sei sicura di sei prontissima? Cosa mi devi mostrare oggi? Allora, partiamo da qua, una cosa abbastanza semplice Lo sapevo, lo sapevo! Cosa? Cosa dobbiamo fare? Che mi dovevi mostrare altri hacks Altri hacks? Sì Come fai a saperlo? Perché è sempre così, Steph, per me è la tua passione E invece se ti dicessi che non ti mostrerò degli hacks, ma ti mostrerò degli hacks lot E' una battuta? Doveva far ridere? Più o meno Mi metto a mangiare per non pensarci, vabbè, dai, 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 fammi vedere, mostrami Ok, ok, vado? Sì Abbiamo Garibaldino No! E abbiamo Pixie Sono tornati! Sono tornati! Ma ce li ha regalati che noia Sì, sì, sì Ah, è per quello, no, Steph, è bellissimo, adesso abbiamo l'acquario super pieno Ciao Garibaldino Ma è stato troppo gentile, che bello È troppo carino Garibaldino È troppo bello questo qua, mi piace un sacco Ma questo chi è, scusami, Axel? Ma che ne so, Fere C'è anche un libro, aspetta, aspetta, aspetta Regalino Ti è arrivato addosso, sappilo Che cosa? Axel Ah, perché l'hai, ok Che belli questi quadretti, questi frame, Steph Come devono essere così belli? Allora, scusa un attimo Amici, ho creato una farm di Axolotl iper rari Ok E questo è il vostro regalino, trattatemelo bene, mi raccomando Ma quindi è il super raro? Penso proprio di sì Da Mark, è un regalo di Mark Ok, e passalo Vuoi farlo tu? Eh, beh Ma non dirmi che adesso abbiamo anche il super raro Axel è anche un bel nome Vado? Vai Abbiamo anche il super raro, Steph, non ci credo È bellissimo Ma abbiamo quasi tutti i colori, praticamente È bellissimo Cioè, allora, Garibaldino è più bello Perché Garibaldino è un fenomeno È Garibaldino È un fenomeno Però abbiamo quello rosa, quello bianco, il giallo, il marroncino, il blu Steph, quasi tutti O tutti o quasi tutti No, no, quasi tutti, mi sa Non so se c'è qualche altra colorazione, ma è bellissimo Siete carinissimi Ma sei tipo gli altri quanto ci hanno messo a trovare quello blu, Steph? Eh, ma se hai creato una super farm, Ferri a quel punto lo inizi a trovare facilmente, credo Eh, esatto Però dico, in natura è rarissimo da trovare Siamo fortunati che ci fanno tutti questi regali Perché sono la big regina Comunque questi frame li tengo, sono molto carini Ok, allora Allora, allora, allora Dato che abbiamo iniziato con l'acqua Ok, vorrei continuare con l'acqua Va bene Va bene? Sì, sì No, forse non è una buona idea Decidi tu, Steph Basta che da qualche parte si inizi No, iniziamo da giù Ok Una cosa semplice, va Allora, prima di tutto I problemi con le scale, arrivo, tranquillo Abbiamo Perché ci sono dei pesci? Ma Ma è geniale questa cosa Ma Penso che li abbiamo messi per sbaglio mentre cercavamo di mangiare Probabilmente sì Forse è colpa mia, forse è colpa mia, Steph Ma Li posso togliere? Allora, stavo dicendo che prima di tutto abbiamo sistemato un po' casa Quindi adesso ci sono meno cesti in mezzo alle scatole Teoricamente, Barci è tornato qua E infatti, eccolo lì, il nostro caro Barci L'abbiamo obbligato a stare nella sua bancarella Esatto Sì, allora, io ho iniziato a togliere delle casse Esatto E a mettere ovviamente il loro contenuto nel magazzino Non ho ancora finito perché abbiamo anche il magazzino di fortuna fatto qui in casa Che a sto punto toglierei perché abbiamo quello gigantesco giù Quindi piano piano poi sistemiamo tutto Sai cosa vorrei mettere qui? Ma credo che non possiamo Un tappetto fatto con i coralli Bello Però temo che non possiamo Perché non possiamo fare il trick dell'acqua Ah no, forse sì Fammi vedere Sì, se abbiamo più di uno strato di blocchi possiamo farlo Allora, scusa Hai un piccone? Sì, io ce l'ho Scusa un secondo Vai, vai, vai Controlliamo subito Eh sì Possiamo? Eh vedi Fantastico Adesso non so quanti strati ci siamo Allora, se bucchi un altro e c'è Possiamo 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 Ok, e lascia direttamente l'acqua Tanto servirà Aiutatemi Allora Togli l'acqua vai No, no, facciamo così Esatto Mi sono incastrata in un buco Non so come ci sono Nessuno ti sta giudicando Va bene, infatti Quindi comunque Potremmo fare questa bella aggiunta La zona cucina devo dire che rivedendola A me piace proprio Anche a me Io allora Sono veramente soddisfatto Ti dico la verità Non ero convintissima di questo tavolo Perché è un colore un po' particolare Aspetta, aspetta Devo finire la frase Però rivedendola alla fine mi piace Ci sta bene Ok Non abbiamo finito le frasi Mannaggia te Maledetto Abbiamo fatto un po' di testa nostra Allora Abbiamo cambiato Perché mi erano rotte le scatole Dei blocchi che c'erano Sì, Steph diceva che non voleva più il pavimento in terra Perché sembrava una zona all'esterno Ma non all'esterno Steph la chiamata così Sì, proprio così E ha voluto fare il pavimento a modi segrete Quindi base, non lo so Di super spionaggio, Steph E sembra una di quelle basi segrete Boh, non lo so Però vedi che adesso tipo gli arcade machine ci stanno molto meglio Sì, sono d'accordo Ok E oggi aggiungiamo una cosa Che si vista nel video della T-Pock School Lo so già, lo so già, lo so già Allora Vuoi dimostrare di averlo imparato facendo tu? No Sì No Non me lo ricordo più In realtà Allora Potremmo Potremmo, potremmo, potremmo Qui, Steph, qui Qui? Qui No, ma qua è di fronte all'ingresso Ah beh, anche tu hai ragione Eh, mannaggia Perché qui al centro sarebbe Secondo me O qui E togliamo gli anvil Ok O altrimenti qui Ma non possiamo fare una versione più piccola Ma se lo mettiamo al centro Scusami, pazienza Tanto un tavolo alla fine Dai, provaci Allora Allora Tieni l'altra tua fence Se ce li hai giuste Uno Allora Perché è un casino contare, capisci? Sì, lo so Ah Mi sono ricordato tutto quanto Sì, 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 sì Era proprio facile Ce l'hai fatta, Steph Prima le sono andate in giro Nel frattempo che ci hai messo l'eternità Arrivo Ero sopra A prendermi un bel po' di freschetto Sto tornando Quindi noi dobbiamo fare in questo modo Poi qua ci sarà l'altra cosa Che tra poco andiamo a piazzare Poi facciamo così Idem da questa parte E poi fai così Eh, sì, vedi, vedi Allo stesso modo Fai così E allo stesso modo Fai così E poi le trapdoor E poi metti le tre trapdoor One, two, three Fatto No, non è neanche così brutto al centro Vero? Cioè, è un po' decentrato E mi dà fastidio Oh, no Cioè, vedi, perché tu No Beh, ma anche se lo spostassi di uno Sarebbe decentrato Però, allora, secondo me Se tu togli questo Che diventa eccessivo Non ci sta più a fare nulla Ok Guarda Va meglio Eh, ma hai tolto troppo No, no Guardalo adesso Vieni da qui Vieni da qui Ora funziona No? Sì Però rimetti il barile qua Era carino No, a me non piaceva No, a me piaceva No, a me non piaceva Stef Allora, se lo vuoi rimettere qui 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 davanti No, asperto, è troppo Allora, abbiamo del carpet Che ci ha avanzato da Quello che abbiamo tolto Eh, mettete il carpet allora Che almeno riempi un po' Ecco, così Perché c'era quel blocco rosso vecchio Che non abbiamo levato Del vecchio pavimento Esatto Bello Bellissimo Così Mi vuole fare Così Mi vuole fare È meglio È meglio Perché se non era troppo vicino Allora, quindi adesso abbiamo La zona ping pong Per giocare Più due arcade machine E devo aggiungere un'ultima cosa Che piazzerò qua Ok La prossima volta Ma la faccio direttamente Perché è troppo complicata Ok E altrimenti non la sai fare Esatto La prossima volta ci sarà già Ok Allora, continuiamo Sono molto deluso Dall'inizio di questo video Ma no, dai Ci ho messo due ore e mezzo Tanto Stef Ascolta Mi ci pensa l'editor Taglierà tutto E sembrerà che tu hai fatto tutto In poco tempo In realtà l'ho fatto in un minuto Esatto Quando in realtà Sono passati 40 minuti Allora, sono bravissimo Esatto Quindi non ti preoccupare Allora, dove ti porto L'editing serve per quello Che succede? Sono tutte molto difficili oggi le cose Quindi io ho preparato i materiali Però poi La realizzazione è un po' complessa Sì, abbiamo una cosa da fare qua Ok Belli Questa ti farà impazzire Vai, sono pronta E no E poi ce n'è una qua E cosa no? Ho creato anche la stradina Vieni, vieni, vieni Guarda Tu arrivi da qui Ok Bello Ho sbagliato Dove siamo Però era bello questo posto No, no, no E' più avanti, mi sa Che ridicolo Che sei No, non è neanche questo Perché che cavolo è? L'ho perso Ma hai fatto tutto da solo E non lo so Non ti ho neanche visto Fare queste robe Sì, 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 sì Vieni, vieni, vieni Ok, ti sto seguendo Tu arrivi da qui Ok Guarda C'è tutta questa stradina E c'è questo laghetto Ok Bello Bello Be laghetto Sì Oggi lo rendiamo bellissimo Va bene Mi dia la palla, grazie Prego Gentilissima Allora Prima di tutto Dobbiamo togliere la terra Tutta? Sì Mannaggia, Steph Ma ne avrei preso due Forza Ti stai rammentando? Ho qualcosa Per farla al volissimo Capisci? Pa, 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 pa Pa, pa, pa Pa, pa Faccio a mani nude A mani nude, eh? Sì Alla vecchia maniera? E' lentissimo sott'acqua Vabbè, Steph Non mi hai detto che ne sarebbero servite due Da solo ci metti troppo tempo Era un dettaglio importante in effetti Esatto Allora, devi sapere che Quello che viene fatto in tutorial È molto più piccolo Però io ho pensato Utilizziamo un laghetto che già c'è Sì, perché no Non so cosa vuoi fare Però ci può stare Eh, diciamo che sarà più complicato Ok Ok Però secondo me Sarà anche molto bello Mi spaventa questa roba Sei molto spaventata? Sì, abbastanza Da 1 a 10 quanto? Eh, 9 9? Sì, sì Perché quando tu dici Secondo me ci sta meglio Anche perché poi Il laghetto di sabbia A cui non c'entra molto Cioè tutta zona di terra No Dovamo farlo vicino al mare No, io oggi ho avuto Una rivelazione importante Ovvero? Eh, no Non te la posso spoilerare Ovvero? Non posso spoilerare Dai, Steph Cosa stai oggi? Eh, la scoprirai, Fere Poi facciamo In questo modo Andiamo a fare Un po' di bordini Qua e là Tra l'allero Tra l'allì Fere ancora Io non so se Non ha capito nulla, vero? Se essere felice O se disperarmi Non ho idea Fere, uscirà qualcosa di bello Ok Cioè in realtà non lo so È molto bello Quello originale Ok Appunto Sei tu che vuoi modificare Che mi preoccupa Sì, esatto Anche a me preoccupa un pochino Ok, dai Allora, questa forma ci sta Ti piace? Comunque non è male Sì, sì, sì Ok, ok Adesso viene la parte Un pochino forse più complessa Allora Cerchiamo In qualche modo Comunque di ottenere Il risultato Che dobbiamo ottenere Ok Facciamo ad esempio Che magari qui Andiamo a fare una roba del genere Bello 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 Ci piace Togliamo questo Non inizia a togliere tutto È bello questo ambiente naturale Steph Fere, ho bisogno di fare delle rocce Attorno al laghetto Ok Eh, ma questa è una roccia Che va già bene, dai Cosa c'è che non va? Che non c'è abbastanza spazio Ma no, Steph Basta, dai Ti prego Fai qualcosa No, è brutto Steph, non è brutto Sto facendo bene Non lo so Ma a me non piace Muoviti Hai capito cosa doveva essere? No Ah, un laghetto per i salmoni? No, per le carpe È stupido Ma Non ci sono le carpe Per far finta che lo siano Mi metti i salmoni Per me è un laghetto di salmoni Ma non esistono i lagheti di salmoni Ho pensato che tu volessi fare un laghetto di salmoni Vabbè ragazzi Doveva essere un laghetto di carpe E un laghetto di salmoni Molto deluso No, è carino, Steph Dai, sì Se metti i colli Asci ancora meglio Dai, vai Fere, non mi piace No, è carino Secondo me ci sta No, andrebbe Tanto qui dietro poi non lo vede nessuno Steph, tranquillo Ma appunto No, doveva essere un bellissimo posto Eh, ma quelli sono tutti in un punto Guardali Ma che sono stupidi Guarda i salmoni Allora, ti faccio anche la È arrivato, Steph Eh? Ho letteralmente visto un pollo scendere da quella montagna A planare e posarsi lì Proprio volando Guarda che bello Sì, carino Guarda, anche qua Sì? Perché così sai che Capito che è la strada che porta All laghetto di salmoni Fere, sono molto arrabbiato con te Io E tu che mi metti i salmoni Non ci sono le carpe su Minecraft Non so, ma se mi metti i salmoni Io penso i salmoni Allora È decente È carino, dai È decente No, secondo me è carino Ci lavoro Va bene È una promessa Alla fine ogni volta stanno uscendo cose carine Ma Steph è più una persona che fa le cose brutte Quindi secondo me Avete visto più la realtà delle cose normali Esatto Però vi prometto che diventerà un posto meraviglioso Tipo Instagram versus realtà Ho più o meno fatto vedere quello Quello è quando fai le foto su Instagram Che le cose ti sembrano belle Poi ci vai tu ed è una schifezza colossale Allora, andiamo a lavorare Andiamo a dormire No, a lavorare Non si dorme Andiamo a lavorare Forza, forza, forza Buongiorno, futacchiotto Buongiorno, tu non ti saluto Buongiorno, Garibaldi Perché non devi salutare? Perché è macchiolina Io non la saluto Povera macchiolina No, no, no Andiamo Forza, 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 forza Forza Ok Allora, dobbiamo andare nella nuova zona Dato che ancora non abbiamo arrivato l'albero Ok Ho pensato a delle cose carine che si potrebbero fare Ok Ok E quindi oggi facciamo delle cose carine nella zona nuova albero Qua non c'è luce Questa cosa andrà sistemata Per adesso metto due lanternine Siamo pieni di lanterne però, eh Cioè ce li abbiamo tutte nel magazzino Guarda anche qua Eh sì Qui si formano mobili Andiamo a dormire, Stef È meglio dormire al manogiorno Ok Allora Sai cosa dobbiamo fare, eh? Ahà Come si preoccuperà molto Un divano Ok E una tv Vediamo come fai un divano e una tv Va bene, sto curiosa Sei preoccupata o sei curiosa? No, sono arresa al mio decennio Stef? Eh Che succede? Eh Aiuto Schifoso Lurido Io ho la spalla fortissima Fai combattere me che me l'ha regalata Mark Allora Qui abbiamo problemi di luce Sì, 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 sì Palesemente problemi di luce Ed è per quello che infatti sono comparsi Ma non è un problema per adesso Allora Questo devo dire che è molto semplice E mi ha lasciato sorpreso da quanto è semplice Lasciato Ok Perché è veramente facile fare un divano Prima di tutto La tv la mettiamo qui Sì In questa parete Sì E quindi il divano lo mettiamo qua Ok Ok Quindi tipo potremmo fare una cosa del genere Va bene? Sì, sì Bel divano ad angolo Lo terminiamo secondo me Qui Ok Ed è un bel divanone Su questa finestra Sì Ok Adesso Guarda questa cosa bellissima Tu togli questo E togli questo Ok Ok Poi Togli Questo E questo Ok Ok Non mi aspettavo non ce l'ho solo i blocchi sotto Potrebbe essere un po' problematico Sì, infatti Stavo prendendo la stessa cosa Hai delle luci? Eh No Ma se vuoi vado a prendere anche quelle Spera Dove sei? Forza Sto mettendo un po' di luce Beh sì Perché è super buio qua Allora Fammi vedere che c'è da fare qui Ah tu fai così E fai così Allora Quindi hai messo Due Due stare Hai fatto un buco Che hai messo due banner Allora Cosa dovrebbe essere? Fai così Allora capirai Sono i cuscini I cuscini di un divano Sì Però Così dici Sono un po' scuri Sono neri Bruttini Normali Quindi Poi tu fai così No Ma è bellissimo Ma è bellissimo Quindi poi li puoi fare di qualsiasi colore Qualsiasi colore vuoi Il colore del banner Poi ci metti il tappetino così E lo puoi fare come ti pare E poi se sei bravo e fai quei banner tutti strani Con le decorazioni Puoi fare anche i cuscini Come se avessero una texture particolare Bravissimo Che bello Non so Non so E ora invece Sto lavando sulla zona tv Che è sorta Vedi Bella Stef non la puoi fare un po' più larga No No perché è la grandezza del quadro Già Purtroppo Ma mi triggera No Non so No Stef Come facciamo? Cambiamo quadro però Cambia canale Cambia canale? Sì Cambia canale Questo non ci piace Eh per me Mi sa che questa grandezza C'è solo questo Lo sai? Vero E beh Vabbè Sì Vabbè Stiamo guardando un film di combattimento Bello Questo film Per me Ma non è finita Ah ok Però mi triggera che sorta Per me Non ho finito Ok 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 Allora Devi far così Vedi? Sì Lo vedo Bello È il bordo Bellissimo Sì 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 Però aspetta Perché non abbiamo ancora finito Un attimino Che devo Un attimo scendere Ora Praticamente Devi prendere questi Ok E fai In questo modo Uno due Uno due Ok Ok Sta migliorando eh Sì sì Lo percepisci? Sì lo percepisco Però è sempre storta Ok Poi Per questo non possiamo salvare Il fatto che è storta Quindi inizio a mettere l'anima in pace Ok Bello così Non l'abbiamo ancora finito eh Vai Non l'abbiamo finito Sono pronta a vedere il resto Tutto ci sarà Allora Praticamente Poi fai così Fai così Ok E poi Fai i cassetti Esatto I cassettini Questi li ho imparati da Marci È l'unica cosa che so fare Bello Sul fatto che è storta Qua magari mettiamo una lampada Che dici? C'entra una lampada Ebbè è una lampada moderna Ma allora Non è solo che è storta Rispetto a questa parete È storta anche rispetto al divano Lo so ma cosa ci posso fare io? Cioè chi l'è inventata questa cosa? È un demone No aspetta Il tipo ha fatto una cosa pari Fere E il problema è che noi abbiamo una parete da 5 Invece che da 4 Quindi il problema è la vetrata da 5 Non è colpa della persona che ha fatto la tv Ma scusa se il quadro non è più grande di così Eh ma il quadro non penso possa esistere più grande di così Fere Eh appunto Ma è storto anche rispetto al divano Stef È quello che sto notando È perché vedi che è tutto molto carino Cioè a me dispiace un sacco che tu non sei felice in questo momento No non è che non sono felice È storto Fino Eh vedi appunto Non sei soddisfatta del prodotto Il prodotto finale non soddisfa Fere Allora devo fare questo Non ho finito comunque Ok Ok Sì sì vai Adesso devo andare con questo Che è tipo Non sai neanche come si usa però È il figlio del demonio per me questo Ok sì Ok ci tengo a farvelo sapere Allora Forza Stef crediamo in te Ce la posso fare Fere Devo prendere questo con la lineetta qua Ok E andare a farne due Perfetto Poi lo devo andare a rimettere E fin qui signori Abbastanza semplice Ok Tutto abbastanza in relax E devo andare a prendere Se ricordo bene Uno degli ultimi Mi pare che fosse questo qui Esatto Forza Stef Io non so cosa sta facendo Non so cosa dire E poi Lo devo piazzare in modo giusto Allora ci dovrei essere Guarda Ok Vado Vai Ti pensi di sorpresa Sì No Bellissimo questo Ora sì che sembrano dei veri cassetti Si avviene anche al tappeto Eh Posso chiudere un occhio Anzi mezzo occhio Sul fatto che è storto Perché è bellissimo Molto meglio dei cassetti normali Come erano prima Se ci inventiamo qualcosa Questo difetto lo possiamo togliere Fere Non credo No No Secondo me si nota solo di più Ah Difficile Mettiamo una lampada che scende Con le catene No no ne facciamo una moderna nel caso Ok Che non ho adesso però eh La troveremo Ok Ok Andiamo via Allora Teoricamente c'è un'altra costruzione Però siamo a 40 minuti Oggi è andato a tutto male No però dai Cioè Vuoi registrare per tre ore e mezzo No però il divano è là Tipo erano molto carini Io sono molto triste di questa cosa E anche il laghetto per i salmi No il laghetto almeno faceva schifo Ok mi va bene Invece quelli non carini Allora 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 Ti posso dare un po' di cose Tieni No Vuoi le mettere nel magazzino Tieni Tieni Un po' di regalini Ok Sì Ti è contenta Sì Ho l'inventario pieno anch'io Steph Basta Così Va bene Basta Ok Ok Questa era la cosa Che mi doveva piacere tantissimo Questo è bellissimo È proprio Questo è proprio Oh ma che Steph è pieno di zombie Un attimino Dovevi andare a dormire No no vai vai Almeno finiamo prima Però qui ci siamo due anni e mezzo Ok allora Questo è stupendo Cioè è fatto da qualcuno Che lo zecca Però è bellissimo Cioè è un'idea brillante Fere Devo ricordarmi Soltanto la larghezza Se mi ricorda la larghezza Teoricamente dovrebbe essere Abbastanza semplice E secondo me dovrebbe essere Tipo a largo 6 Ok Quindi Allora Lo potremmo fare tipo qua Secondo me Da qui 1 2 3 4 5 6 Ok può andare bene Sì Steph Un attimino sto combattendo Quindi tu pensa a costruire Se no Arrivano a picchiare i mob Non è un problema Fere Ok vai 1 2 3 4 5 6 7 Ok Cos'è questa cosa enorme Aiuto Ok Devo rompere questo pezzetto di albero Non è un problema Hai già capito che cos'è? No per niente Davvero? Eh come faccio a capirlo? Sono due pilastri rossi al momento Ora? No Niente? No Davvero? Ora? Ah sì Sì ho capito È tipo l'arco cinese Non so il nome giusto Giapponese E si chiama Toril Ok Ok Ed è giapponese questo Perché ce l'hanno anche cinese Quindi No dovrebbe essere quello giapponese Ok Perché io ho presente anche quello cinese Però Abbiamo un problema Non ci sta Sono troppi alberi Leva quell'albero Quale? Allora questo forse non ci dà fastidio Ok Questo piccolo Ci dà fastidio questo Anche se è un peccato Lo so Vabbè per ora Steph Fai quello che devi fare Poi l'albero lo spostiamo Sapendo forma eh Sì Ovviamente aspetta che distruggo questa cosa Che tanto non ha minimamente senso Perché il nuovo ingresso è il Toril Sì Capisci? Ok Così Perfetto Buttiamo giù anche da questa parte Ma allora l'avresti dovuto fare un po' più avanti Lo potevi fare qua Se dovevi togliere l'altro ingresso No perché non ci stava comunque Sicuro? E poi è più dritto qua Capisci? Sì sì Ok E ovviamente però Entra dentro l'albero Però poi a quel dettaglio ci penseremo in un futuro prossimo Dobbiamo spostare l'albero Esatto Dobbiamo spostare l'albero No Ferre sono veramente deluso Mi vergogno Sì fai bene Ma è colpa tua però No è colpa tua che vuoi da me No no Io ho solo guardato cosa dovevo fare No la cosa tv l'ha accentuata tantissimo Non è vero Stef L'hai fatto Non l'abbiamo visto tutti No non l'abbiamo notato nessuno Certo Non se ne erano accorti che era sorta Hai finito? Sì Però voglio che pretendi che almeno il divano e la tv erano molto carini Ma anche il laghetto mi è piaciuto eh No il laghetto non era bene No a me è piaciuto No 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 A me è piaciuto Allora faccio una promessa solenne Per il prossimo video vi faccio trovare il toril pronto Una lampada moderna lì nella zona tv Per compensare quella stortaggine E il sistema è il laghetto Ok Va bene? Va bene E' un sacco di roba Sì Però hai preso l'impegno ormai Ho preso l'impegno Hai preso l'impegno Non facciamo più video di dove costruiamo Esatto Mi stavano piacendo ma non mi piacerono più Oggi non mi sono più piaciuti Ok? Ti fermiamo così per questo video Speriamo che lo stesso vi sia piaciuto Signor editor Salvi il video Grazie Sotto con paio altri video Iscriviti al canale Capolino E ci vediamo al prossimo video Ciao 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 ciao